E lasciamo lo sport per parlare di Yves Arnold, prima donna della fotografia del Novecento, fino al 7 gennaio al Museo Civico San Domenico di Forlì, tra reportage di inchieste e ritratti di star. Maria Chiara Perri. Uno sguardo personale, quasi intimo, che si avvicina all'umano, ne cattura l'immagine e riesce a trasmetterne le più profonde sfaccettature, restituendo infine lo spirito di un'epoca. È quello di Yves Arnold, figura centrale della fotografia del Novecento, la prima donna a far parte, dal 1951, dell'agenzia statunitense Magnum Photos. Al Museo Civico San Domenico di Forlì, una mostra fotografica ne ripercorre l'intera carriera in 170 scatti. Yves Arnold è stata spesso raccontata come una donna che sapeva aprire porte che nessun altro riusciva a aprire. È stata la prima ad entrare all'interno di un harem, è stata amica di Malcolm X, è stata amica di Marilyn Monroe, raccontandone gli aspetti anche più privati della sua esistenza. Dalla sfavillante al contempo oscura Hollywood, a un harlem in lotta contro l'oppressione razzista. Dall'intima vitalità di una sala a parto, ai grandi reportage nei mondi contrapposti all'Occidente. Appassionata e poliedrica, Yves Arnold ha sempre voluto varcare ogni limite. Icona dell'emancipazione femminile, ha reso immortale un Novecento che continua a parlare con noi.